Quella è di design presa da un negozio di modernariato. Quello è stato praticamente il primo oggetto di design, quel tavolo, oggetto con una funzione che ho realizzato. È stato fatto a New York nel 1994. Il disegno per me è una sorta di scrittura più complicata e più personale. Io amo molto le terre di confine, mi piace stare ai confini delle diverse discipline. Queste discipline, ma anche la teoria, la pratica, il design, l'arte, sono cose che richiedono approcci diversi, proprio da un punto di vista mentale, da un punto di vista anche di impegno e direi di impegno fisico, cioè implicano l'uso di muscoli diversi del corpo. E' ovvio che realizzare una scultura richiede anche una capacità fisica muscolare e spesso questa muscolarità collide invece con l'attività intellettuale, come se appunto si mettessero in funzione parti diverse del nostro pensiero, proprio del nostro circuito cerebrale. Praticare discipline diverse e alternare teoria e pratica, quindi studiare arte o almeno tentare di realizzarla, tentare di realizzare delle forme che abbiano appunto un senso e che possano avere una loro storia, significa anche mettersi sempre in una posizione un po' di fuori gioco, da cui poi bisogna saper rientrare in gioco. E' proprio questo confliggere reciproco che credo sia estremamente produttivo e che ti aiuti proprio nella tua creatività, nel senso che impedisce proprio la consuetudine, la ripetitività, l'automatismo, ecco, proprio per cercare che nulla sia scontato, ma che tutto nasca sempre da una nuova ricerca. Ecco, questo significa mettersi un po' in fuori gioco. Il fatto che una scultura conservi una funzione mi dà un senso, come dire, di tranquillità, ecco, perché mi libera dall'assillo di fare una cosa che formalmente debba essere nuova, che è insondata. Però proprio per liberarmi un po' dall'angoscia dell'influenza e non essere così condizionato dal dare uno status proprio di arte maggiore, come dire, mi rifugio un po' nell'arte minore. Intendo qui il concetto che ci ha trasmesso Gilles Deleuze quando appunto parlava di letteratura minore o di arti minori nel senso di qualcosa che è intempestivo, qualcosa che è dentro un divenire ma non si colloca bene né in un passato né in un futuro. Ecco, questo stare in una condizione di arte minore e quindi un'arte che, per ritornare invece al concetto più vulgato, conserva una funzione, cioè poi mi fa essere libero anche di sbizzarrirmi nella ricerca di effetti puramente formali. Anche le sedie nascono da oggetti già esistenti, quindi da sedie trovate nelle discariche o nei mercatini che vengono rilette quasi attraverso dei raggi X cercando una filigrana nascosta al loro interno. Io mi sento, mentre esercito il mio lavoro di scultore e artigiano, molto sorvegliato, molto autosorvegliato. Questa frequentazione, ecco, anche questo esercizio dell'arte come critica d'arte, come scrittura d'arte, come anche testimonianza attraverso i lavori degli amici e attraverso la frequentazione ovviamente dei musei, delle gallerie, cioè questo sguardo sulla storia e per quanto è possibile, sicuramente sulla storia, per quanto è possibile anche sulla contemporaneità chiaramente mi rende assolutamente ipercritico nei confronti dei miei stessi lavori. Per questo appunto che dicevo che mi rifugio un po' in questa maschera, possiamo dire, dell'oggetto funzionale. Cioè l'oggetto funzionale mi riporta appunto a un'artigianalità che è anche un senso così di understatement, proprio anche una professione un po' di umiltà, ecco, che mi fa stare appena un gradino più in basso dall'esercitare la scultura to cure. Io credo molto, diciamo, nel valore affettivo proprio degli oggetti, cioè gli oggetti assorbono comunque il vissuto delle persone che gli hanno usati e continuano del resto poi a accompagnare la nostra storia, perché appunto queste, soprattutto le sedie che ho realizzato, vengono anche usate quotidianamente, quindi comunicano sempre questa, diciamo, questo travaso emotivo, se vogliamo dire un po' un'esagerazione, ecco, con i miei amici, con le persone che vengono a trovarmi. Questa dimensione che interrompe un po' questa ossessione dell'aura, no? Cioè dell'oggetto auratico, dell'oggetto che deve essere messo in posa o comunque su una sorta di trono ideale dentro un museo. E mi piace molto che, ad esempio, molte di queste sedie che sono state quasi un anno al Museo del Design, esposte, adesso ritornino a svolgere proprio la loro quotidianità. Il mio principale nutrimento è libresco sicuramente e soprattutto letterario, cioè io sono stato e continuo ad essere un frequentatore appassionato di letteratura. Considerare la lingua come qualche cosa proprio di plasmabile, quasi come una materia veramente scultorea, no? In cui non soltanto, diciamo, esprimere dei concetti, ma esprimere qualcosa quasi di solido, cioè si parte da Dante, quindi amo molto anche, che so, i moralisti del Seicento, perché proprio sento la lingua che si plasma quasi come una materia, che diventa quasi tattile, che assume una sonorità che ti si ripercuote poi all'interno mentre la leggi, no?